Ripartendo dall'esempio di Porta a Porta, Porta a Porta è oggi il programma di approfondimento giornalistico di punta della prima rete della televisione pubblica nazionale. È un programma di una povertà in termini anche formali, al di là di quello che pensiate dei suoi contenuti, povertà e pigrizia televisiva e inventiva totale. Io sono convinto che se oggi quello spazio litro si è affidato a qualcuno, ognuno pensi il nome a sua scelta, a qualcuno con una capacità di modernizzazione, di creatività, di articolazione migliore giornalistica e del dibattito politico, farebbe dei numeri molto minori di quelli che fa Porta a Porta. Perché appunto la domanda per la qualità e dentro anche il termine qualità ognuno venda quello che ha come idea di qualità, ma comunque anche per la modernità dei contenuti giornalistici. Il GATT parlava di internazionale. Il termine internazionale ormai è trattato in questo paese, da chi si occupa sia di giornalismo ma poi anche pubblicità intorno ai prodotti giornalistici come era trattato una volta a cultura. Quando sento esteri metto mano alla pistola. Soltanto quelli di internazionale settimanale sono stati così bravi, così costanti e pazienti. Lì c'è voluto un sacco di tempo da costruirsi uno spazio che essendo stato peraltro abbandonato da tutti gli altri riescono a presidiare con efficacia e con un prodotto che funziona. Quindi diciamo dentro tutti questi ragionamenti che facciamo c'è il fatto che i prodotti giornalistici, culturali, editoriali di bassa qualità, anacronistici, slegati molto dalla realtà del mondo in cui viviamo ma ancora molto legati alla realtà dell'Italia che è piuttosto peculiare, anacronistica eccetera eccetera, oggi continuano ad avere una grande domanda, una grande richiesta a fronte di una piccola domanda invece che c'è per raccontare il mondo e la modernità così come oggi e cose di maggiore complessità. Se voi appunto oggi fate in prima serata una puntata sulle trasformazioni indotte nel mondo da Google, Twitter eccetera, ho fatto una puntata su Apetranna, ovviamente Apetranna fa il quadruplo dei nascolti e per quanto si...